Ma chi può augurarvi buon lavoro meglio di me? Beh, è Filippo Poletti, top voice di LinkedIn. Sapete che tutti i giorni Poletti, il caro Filippo, racconta sulla rete, su LinkedIn, notizie, storie di lavoro. Il lunedì ci fa una sorta di recap qui per noi per augurarci buon lavoro. Allora, a te Filippo. Buon lavoro a tutti. La prima parola chiave della settimana è capo. Abolite dalle comunicazioni ufficiali e dai bigliettini da visita le parole direttore, vice direttore e così via. Tutto questo per favorire un ambiente di lavoro in cui ci si confronta la pari e tutti si sentono liberi di intervenire. Accade ad AXA Svizzera, la filiale della compagnia di assicurazione francese con 4200 dipendenti. Ci si confronta dunque alla pari. La seconda parola chiave della settimana è benessere. Secondo uno studio dell'osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano, gli smart worker godono di livelli più elevati di benessere rispetto ad altre categorie di lavoratori. Benessere psicologico, fisico e relazionale. Quello che incide sulla qualità di lavoro è se si lavora per obiettivi con tempi flessibili e sentendosi valorizzati. Lo dice il responsabile scientifico Mariano Corso. Lo smart working flessibile e per obiettivi fa dunque crescere il benessere. La terza e ultima parola chiave della settimana è vacanze. E se la casa per le vacanze fosse gratuita per i dipendenti che prendono fino a 25.000 euro, lo prevede poste italiane. Capri, Favignana, Lipari e Jesolo sono alcune delle mette possibili. E inoltre Fiocco Giallo, cioè il pacco dono con prodotti per la cura e l'igiene dei neonati, inviato da lui a tutti i dipendenti diventati genitori o che adottano e prendono un bambino in affido. e l'attenzione ai dipendenti e alle loro esigenze.